81,4% dei campioni prelevati dai suini abbattuti il 3 gennaio ad Orgosolo è risultato siero positivo alla peste suina africana, oltre il 5% virus positivo con la malattia in corso. Questo è il bilancio degli esami effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e comunicati all'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna. Su 215 suini sottoposti ad abbattimento, su 129 erano stati prelevati dai campioni. Di questi, i 105 esemplari sono risultati siero positivi su un totale di 129, dati che secondo l'Unità di Progetto hanno confermato la forte presenza della malattia tra gli animali lasciati al pascolo brado illegale, dove il virus continua ad alimentarsi e a muoversi indisturbato tra i branchi di maiali bradi e fra i suini bradi e cinghiali. Da numerosi dati elaborati in questo ultimo mese sui capi abbattuti tra Barbaggio e Gliastra, spiega l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Lago di Orgosolo sembra proprio essere l'epicentro più pericoloso della peste suina in Sardegna. La forte e costante endemicità della malattia riscontrata nei branchi dei maiali abbattuti in questi territori continua la nota, dimostra che se non si interrompe subito il pascolo brado e quindi la continua trasmissione del virus tra maiale e maiale e tra maiali e cinghiali, si rischia di tenersi la peste suina africana per sempre. Il risultato dell'81,4% di seropositività conferma di fatto l'andamento riscontrato nei controlli elaborati nell'ultimo mese sui capi depopolati. Unica eccezione che secondo gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale era dovuta al fatto che si trattava di branchi isolati e non a contatto con gli altri suini, riguarda i maiali abbattuti il 30 dicembre a Villa Grande e Sirisaile, a Talana, dove la seropositività era stata del 5,6%. Grazie a tutti.